Battipista Bombardier, il famoso gatto della neve. La lama ha una lunghezza di 5 metri e serve per portare neve nelle zone dove manca, spienare le piste, i cingoli sono in gomma e in alluminio con dei ramponi per fare presa sul ghiaccio. Questa è la fresa che gira a una velocità. Per fresare la neve dove passa il cingolo che lascia i segni. Grazie. 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 Questo è un altro gatto della neve Bombardier, il modello prima del gatto azzurro che ho filmato. Ramponi per ancorare nel ghiaccio. Alla prossima. Questo è un vibratore che fa il lavoro finale al passaggio del gatto. Vibrando liscia la neve. Vedete, lascia un disegno. Questo gatto della neve è della Prinotte, modello Everest, pino in farina. Questo è il verricello che viene ancorato a un sostegno e aiuta il gatto della neve nelle Piste ripidissime. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.